ciao oddio quanto tempo scusatemi se lo meglio allora ragazzi dove devo guardare dove devo guardare lì 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 parlante ragazzi io non ho ancora capito dove cavolo per camera qui siete qui allora ragazzi come state io sto così così insomma sono tenuta casalinga mi devono portare il matrasso nuovo la nonna è andata a fare la spesa questo era insomma un blog piccolissimo per salutarvi fra un po come iniziano le scuole rinizieranno insomma i programmi e anche i nostri sicuramente come vi ho già anticipato ci sono delle novità molto carine avrò bisogno di voi è una di queste insomma vorrei che mi aiutaste un po anche voi voi sapete che dice una delle mie passioni forse quella più che mi ricorda più da mia mamma perché cantavo con lei molto spesso le canzoni che io ricordo come mina come andrigo come come tutti quelli del periodo sono chiaramente qualcosa che mi lega a lei oltre tutto il resto ovviamente niente quindi io vorrei sapere una cosa quali sono le canzoni del vostro cuore perché io nella mia rubrica canta con lisa g infatti mi sapete se vi piace se non farò ridere abbastanza vorrò non so cantare qualcosa che a voi ricorda l'infanzia che ricorda un amore qualcosa che è finito qualcosa che è passato qualcosa che è ricominciato qualcosa che vorreste rincominciare insieme a me insieme a tutti io sono qui vi do un'anticipazione il video credo il prossimo questo insomma il prossimo dopo questo sarà il video sento poldo che sarà appunto un video in collaborazione con un ragazzo bravissimo e splendido che è Michael vi lascerò tutto nell'info box così cominciate a conoscerlo sicuramente lo conoscerete lui ha molti più iscritti di me quindi è probabile che lo conoscerete già però insomma io lo sapete che qua c'è posto soprattutto per chi ha talento e vi do un'anticipazione sulla canzone che io canterò e ovviamente voi capirete che make up lui proporrà che cosa sei che cosa sei che cosa sei che cosa sei cosa sei non cambi mai non cambi mai non cambi mai proprio mai caramelle non ne voglio più le rose e i violini na 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 buona giornata fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate se avete riconosciuto la canzone e se avete capito che cosa succederà il prossimo video nel prossimo video l'italiano è gratuito come dice Bugs è mattina anche per me ciao ragazze un bacio ciao ciao ciao